ma è possibile non riesco a distare senza litigare?! lasciami stare la ciabatta e tu mi dai la ciabatta? no, ma questo l'ho mai rotto la ciabatta oioioioi, ma tu... ha trattato...ha trattato prontoli anche, mi mordere il dito eh brutta E allora? E che vorrebbe dire adesso? Guardiamo un po'? Hippa! Vieni! Lascialo fa' Nicky, dai! Foronicchino! Lo punti in una maniera, proprio! Lascialo fare, povero Birillo!